Mi piace quest'anno rivolgere gli auguri di Natale da San Luca, ovvero in corso la visita pastorale, da questo bel paese della nostra terra che risente di tante ferite e sofferenze ed in un certo senso raccoglie in sé tutte le povertà della nostra Locride. Condividono con me quest'augurio tutte le persone che sto incontrando in questi giorni e che vivono la presenza del Signore nelle loro case, spesso umide e fredde, che non possono partecipare alla gioia della festa insieme alla comunità perché malate, anziane, imbedite per altre ragioni o agli arresti domiciliari o anche perché hanno perso il lavoro. È un augurio che raccolgo sulle labbra di tutti, passando tra le case e incontrando la quotidianità della gente, laddove abitano le famiglie, i malati, i sofferenti. È in questi luoghi che il Signore viene ad abitare. Questi nostri fratelli e sorelle, cui ho chiesto di offrire la propria sofferenza per la nostra Chiesa, sono pronti ad accogliere l'annuncio dell'Angelo nella notte santa. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Il Natale ci richiama tutto questo. Il Signore viene tra noi per restarvi. Si incarna nella storia di tutti i giorni, negli ambienti di vita, soprattutto laddove c'è tristezza e sofferenza. È in questa quotidianità che siamo chiamati a dire che il Signore è accanto anche quando siamo affaticati e oppressi. Ho visto con piacere che in tante case è stato allestito il presepe. Con il linguaggio semplice di San Francesco di Assisi, il presepe, mentre ci mostra Dio così com'è entrato nel mondo, ci provoca a penizzare alla nostra vita inserita in quella di Dio. invita a diventare Suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita. Nella povertà dei segni di un presepe, dove Maria depone Gesù nella mangiatoia e con Giuseppe e i pastori lo contembla e adora, incontriamo la tenerezza di Dio. Il senso profondo del Natale sta nella fedeltà del Signore, nella sua continua benevolenza. Il Signore è fedele sempre, anche quando non ce ne accorgiamo o siamo troppo presi dalle cose o dalle fatiche del vivere quotidiano. Non ci dimentica, non ci lascia soli, si mostra col volto di un Dio che ci vuole bene, ci cerca, ci viene incontro, ci ama e si fa carico delle nostre difficoltà. L'augurio più bello che voglio condividere con tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, sta nella certezza che non siamo soli e che anche coloro che vivono situazioni di disagio, di dolore e difficoltà o sono in carcere, possono unirsi a noi nella contemplazione ed adorazione del mistero incarnato di quel bambino nato dalla grotta di Bettremme. E l'annuncio che ci sostiene ci dona la speranza e la forza di andare avanti. Buon Natale a tutti e a ciascuno.